Fano oltre ad essere amica dei bambini e delle bambine e delle persone è anche amica degli animali e lo dimostra l'impegno che ci siamo presi nella realizzazione di due nuovi sgambatoi che si vanno ad aggiungere ai quattro già realizzati partendo da Bellocchi, Fano 2, San Lazzore e Santorso e quest'anno, proprio in questi giorni, stanno picchettando e iniziando i lavori sia presso l'area qui alla trave di fronte al circolo tennis che alla Centinarola dietro il campo sportivo in via Monfalcone. Sono rispettivamente due sgambatoi importanti come dimensioni, parliamo di una dimensione circa di 40 metri per 30 naturalmente mentre qui siamo in una pianura siamo riusciti a rispettare una dimensione più uniforme a Centinarola invece ci addentriamo in un bosco proprio per rispettare quello che è un percorso naturale abbiamo un attimino rimodulato quello che sarà l'ambiente ricordiamo che sono sgambatoi che sono attrezzati di una recinzione ci sarà la fontanella, ci saranno delle panchine e così anche dei cestini porta a rifiuti proprio per conferire quello che è il rifiuto dei propri cani che naturalmente vanno a sensibilizzare nuovamente quello che è anche lo spirito civico con cui ci si appresta in questi luoghi di pausa urbana luoghi bellissimi dove le persone riescono veramente oltre che a portare i propri amici a quattro zampe proprio a socializzare, a creare una radice sociale che è quella che vogliamo diffondere sempre più nella città proprio perché questi luoghi sono luoghi di socialità sia alla trave che a Centinarola abbiamo previsto anche delle panchine fuori lo sgambatoio proprio per favorire un'area di ristoro e in questo caso ci troviamo qui alla trave dove grazie a quello che è l'intervento della ciclabile dell'Arzilla e alle opere compensative quindi proprio per mitigare ancor più l'effetto del verde stiamo mettendo di mora proprio in queste ore 21 nuove piante sono tre specie arboree molto colorate variegate tra loro ma che mitigherà sicuramente daranno un maggior decoro ma soprattutto daranno qualità anche all'abitare in tutti i sensi dalla qualità dell'area che respiriamo e in questo caso andranno anche a mitigare lo spazio sia della ciclabile rispetto a quello che è l'area dietro Naturalmente noi arriviamo a destinazione di una richiesta numerosa e attempata di tanti cittadini che fortemente volevano questi spazi adibiti agli amici quattro zampe e sono spazi che non termineranno qui perché l'impegno dell'amministrazione come abbiamo dimostrato in questi anni è quello di dare continuazione e quindi di diffondere sempre più questo luogo in altre parti della città